Sono trascorsi quasi nove anni, ma i fan del Duca Bianco non se ne sono fatti ancora una ragione. Era il 10 gennaio del 2016, infatti, quando David Bowie scompariva. Ma proprio in vista dell'anniversario ecco che è arrivato l'annuncio. Sarà inaugurato il 13 settembre del 2025 a Londra al David Bowie Center, archivio permanente di oltre 30.000 elementi scelti per ripercorrere il processo creativo dell'immortale rock star. La meta del pellegrinaggio per i fan di tutto il mondo sarà collocata in un nuovo spazio del Victoria and Albert Museum, il museo che nel 2013 ha ospitato anche la mostra del Duca Bianco, David Ease, facendo poi il giro del mondo e raccogliendo milioni di visitatori. Il museo, dedicato al design e alle arti applicate, che è tra i più importanti visitati al mondo, nel settore, esporrà quindi in maniera permanente l'enorme archivio di David Bowie, scomparso appunto nel 2016. Già oltre 90.000 gli elementi scelti per ripercorrere il processo creativo, che saranno divisi in tre aree. Ci sono oggetti, foto, lettere personali, ma anche strumenti musicali e testi di canzoni celebri, come per esempio Heroes e Fame, scritti a mano. Alcune anche con il metodo del cut-up che l'artista aveva imparato dallo scrittore William Boruts. Tra i pezzi più scenografici ci sono anche i costumi. Molti hanno raccontato insieme alla musica le trasformazioni di Bowie, dal glam di Ziggy Stardust al clown lunare di Ashes to Ashes, dall'abito sartoriale del Duca Bianco fino al soprabito con la bandiera inglese di Alexander McQueen, indossato poi negli anni 90. L'archivio sarà collocato appunto nella V&A East Storehouse, un nuovo spazio del museo di Londra che sarà aperto a marzo prossimo a East London. Oltre all'archivio permanente di Bowie ci sarà anche un'esperienza che conterrà oltre 250.000 oggetti, 350.000 libri, 1.000 archivi, ma anche laboratori di restauro, conservazione, aree di lavoro, sale di ricerca lettura, insieme a varie gallerie e spazi espositivi dove troveranno posto anche varie performance. L'acquisizione e la creazione del David Bowie Center si sono rese possibili grazie al David Bowie Estate con il supporto della Warner Music Group e anche una donazione della Blavatnik Family Foundation, una fondazione voluta dall'imprenditore ucraino Leonid Blavatnik appunto. David Bowie dunque rimane ancora vivo, almeno nel ricordo e con la musica, alla quale adesso vogliamo tornare a dare spazio, con una colonna sonora speciale come Magic Dance. Arriva dal 1986, dunque quasi quarantenne. È un brano musicale scritto e interpretato dallo stesso Bowie, incluso nella colonna sonora del film, da lui interpretato Labyrinth, dove tutto è possibile. Nello stesso anno, dell'86, è pubblicato poi su singola tiratura limitata in alcune nazioni a gennaio dell'87. Dopo la morte di Bowie, nel 2016, va ricordato che Magic Dance rientrò in classifica, raggiungendo la posizione numero 63 della iTunes nel Regno Unito. E va anche ricordato che proprio in Gran Bretagna, al 45 giri, venne pubblicato solo nel 2007 in versione download digitale. Noi ora ve lo riproponiamo come brano, augurandovi naturalmente buon ascolto.